Iniziamo dall'A1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna In A11 code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze Sul raccordo Siena-Firenze è traffico bloccato per incidente tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena In Fibillico denuscita alla Strassigna provenendo da Firenze Rallentamenti tra Scandici e Firenze-Scandici in direzione Firenze A Firenze per i cantieri della tramvia stasera si sposta al cantiere in Viale Belfiore Nessuna modifica alla mobilità A Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali In zona Portalprato e sul ponte a Varlungo in direzione ingresso città Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!